Siamo in compagnia del sindaco Vignali, al quale vorremmo porre alcune domande e chiedergli un ricordo di Monsignor Bonicelli che è recentemente scomparso. Dottor Vignali, grazie. La notizia della scomparsa di Monsignor Bonicelli è giunta inaspettata e siamo tutti molto addolorati. Lei vuole esprimerci, offrirci un ricordo di Monsignor Bonicelli che lei ha senz'altro conosciuto e darci un suo pensiero sulla persona non solo come guida spirituale ma anche come uomo attento ai problemi del sociale. Sì, sono molto addolorato per la scomparsa di Monsignor Bonicelli, ho preso la notizia proprio ieri pomeriggio dal Vescovo. È stato per me un punto di riferimento importante e come credo lo sia stato, anzi sicuramente lo è stato per tutta la nostra comunità. Come diceva lei è stato sicuramente una guida spirituale in un momento anche molto difficile della nostra città ma soprattutto è sempre stata una persona molto attenta ai temi sociali ma non solo della nostra città. Io penso soprattutto ai giovani ai quali lui era sempre molto vicino, giovani che hanno bisogno di un punto di riferimento importante come era lui. Quindi è una persona molto attenta. Io ricordo la notte in cui ci siamo ritrovati a mezzanotte, la notte della triste, della morte di Giovanni Paolo II. Come ricordo dopo l'appello di Papa Ratzinger proprio sulla salvaguardia del creato, quando assieme abbiamo condiviso, io allora ero assessore, l'idea di costruire, di costituire un centro di etica ambientale che poi ha preso vita. Quindi è stato un uomo di carità cristiana ma anche di grande testimonianza civile. Ha dato una grande testimonianza nella vita e soprattutto anche nella malattia che ha affrontato con grandissimo coraggio. Quindi una presenza discreta ma comunque sempre attiva e sempre attenta ai nostri bisogni. E infatti anche con i giovani tantissime sono state le camminate che lui ha fatto anche da amante della montagna. Quindi ricordiamo la camminata a Berceto e in altre località, sempre in compagnia dei giovani che lui amava particolarmente. Sì, lui aveva questa particolare attenzione nei confronti dei giovani e questo mi aveva colpito anche dopo il mio insediamento a sindaco. Ho avuto un lungo colloquio con lui, abbiamo parlato a lungo delle problematiche dei giovani. E ricordo anche quando, proprio parlando con lui, avevo maturato l'idea di partecipare alla giornata mondiale della gioventù al quale anche lui era presente. E questo credo sia un fatto importante perché quella dei giovani è sicuramente una delle problematiche principali che ha la nostra comunità come tutte le altre comunità del nostro paese. E non dimentichiamo il suo affetto per gli alpini. Ricordiamo la parata degli alpini quando sono venuti a Parma e lui in prima fila con loro. Sì, anche quello è stato un momento importante della nostra città, un momento di allegria ma anche di riflessione al quale lui ha partecipato con il suo solito spirito e soprattutto con quell'attenzione ai problemi della nostra comunità che lo contraddistingueva. Quindi una guida spirituale sempre molto lucida ma al contempo, come ho detto prima, anche molto attenta a tutte le tematiche che caratterizzavano la nostra città. e quella della giornata degli alpini è stata sicuramente una di queste giornate che porteremo tutti nel nostro cuore come anche l'immagine di Monsignor Bonicelli appunto vicino agli alpini. La ringraziamo, buona giornata. Grazie a voi.